Adesso se sono grossi è perché così si vede meglio, c'è lo schermo, ma se no attualmente le batterie e i telefonini non so di quante volte sono ridotte, ma di tantissimo insomma, con anni di ricerca e con un mercato ovviamente che supporta questa ricerca perché altrimenti si compra il telefonino più comodo, più nuovo, più piccolo. Quindi ci saranno degli incentivi, ci sarà un mercato globale, investimenti che come abbiamo detto prima c'è la globalizzazione, quindi investimenti in ricerca in Cina, in Stati Uniti magari poi arrivano anche in Europa oppure ne beneficeranno un po' tutti quanti. Però abbiamo anche ancora una situazione dove in Africa per esempio mi sembra che più del 50% della produzione non c'è energia elettrica, cioè non c'è proprio la corrente. Ma nelle città pure se ce l'hanno, ce l'hanno ridotta. Per cui queste riunioni dell'anno scorso dei ministri online dei paesi africani c'erano problemi a volte a collegarsi perché o ricarichi il portatile o spegni il frigorifero o se no quindi il cellulare, per ricaricare il cellulare devi spegnere altre fonti altrettanto importanti della vita quotidiana. Quindi parliamo pure di questo, del fatto che c'è, ed è il problema, cioè noi siamo più o meno comodi, ci sono le fasce di povertà, però insomma bene o male accediamo a certi standard di qualità della vita. In altri paesi vivono ancora andando a cercare l'acqua insomma, per le esigenze quotidiane, lavarsi, cucinare e mangiare. Vabbè, ed è il motivo poi di negoziato, di confronto negoziato. Vabbè, qui sostanzialmente che cosa diciamo? Che nel breve periodo bisogna lavorare su trasporti e su edifici. Cioè industria ed energia al 2030 hanno poco margine ancora di riduzione, perché dobbiamo identificare tecnologie e modalità, perché c'è un problema anche di ricambio, no? Edifici e trasporti si può fare di più. Gli edifici, il governo l'ha fatto, perché questo incentivo, questo investimento, e sono tanti soldi col 110% per mettere i cappotti termici agli edifici per, diciamo, consumare meno energia, è un investimento economico che va nella giusta direzione. Ora, il problema è che l'Italia è fatta anche di paesi quasi tutti stupendi, che difficilmente puoi fare dei interventi sugli edifici. Cioè, voglio dire, al quartiere, a Cinecittà li puoi coibentare tutti quanti. Tanto non togli nulla all'aspetto, diciamo, urbanistico, architettonico del quartiere. Al centro storico di Roma non puoi mettere il cappotto, insomma, gli edifici. Magari non serve nemmeno, perché c'erano già le mura spesse, le case, però cambiare le finestre è già un problema, no? Da un punto di vista, diciamo, urbanistico, architettonico, di bene del culturale. Quindi bisogna vedere anche lì la fattibilità, però i soldi ce li hanno messi. E i trasporti è uguale, è un rinnovo del parco circolante che poi costa, perché non è che tutti si possono comprare il veicolo elettrico, anzi quasi nessuno, direi. Libri, do bene o male, noi ce li siamo voluti comprare, insomma, dovendo comprare una macchina. Per questo che ho detto prima, che deve essere associata a un cambiamento di stile di vita, cioè minore mobilità, minore consumi energetici, perché anche dentro casa, se usiamo, anche con le compie di calore, sono, diciamo, elettricità, però se la casa disperde molto meno energia, hai bisogno di accenderla molto di meno, insomma, no? Magari in Val d'Aosta devi accenderla tutti i giorni, però in una città come Roma già c'è un mio collega che ha comprato una casa costruita nuova pochi anni fa, lui il riscaldamento lo accendeva pochissimo durante l'inverno, perché è totalmente coerventata, finestre moderne, cioè sulle case nuove si può fare, sulle case vecchie il margine è molto minore. C'è la biomassa poi, insomma, i camminetti o comunque le stufe, pellet, con altri impatti, però diciamo anche quello è previsto. Poi c'è anche l'idrogeno, cioè non è solo veicoli elettrici, sono veicoli elettrici che non potranno essere il 100% del parco. Ci sarà il biogas, già adesso esiste incentivato la produzione di biogas per il trasporto, cioè il biogas è prodotto in quelli che chiamavamo prima dall'agricoltura, con opportune trasformazioni diventa il gas buono per un motore a gas, ed è incentivato, c'è una normativa che dà i soldi per fare questo. Quindi sarà una serie di combinazioni, dobbiamo ancora capire come. Adesso noi lavoriamo sulle teorie, diciamo, nel senso che facciamo dei conti, diciamo questo deve essere tutto così, poi la fattibilità... Eh sì, infatti bisogna, allora, quello che diciamo, il PNRR che mette parecchi soldi su mobilità sostenibile, su ambiente, come li mette sulla salute e su altri settori, ma sono veramente tanti soldi, mi sembra che siamo a 200 miliardi per la parte ambiente, se sommiamo mobilità e investimenti ambientali nell'industria, eccetera, sono 200 miliardi, sono tantissimi, che devono essere restituiti entro il 2000, che dal 2026 in poi cominciano a essere restituiti, quindi devono essere realizzati in questi tre anni. Tutti questi progetti sono fatti per attuale, ma devono pensare al 2050. E questa, diciamo, è la tematica su cui si discute, su cui molti settori ambientalisti hanno contestato, contestano l'ENI, vanno a fare manifestazioni di tanti a l'ENI, e il ministro Cingolani, chiamato anche Cingoleni, perché è molto vicino, diciamo, è sensibile a l'ENI, perché diceva bene, il gas è transizione, ma tu fai investimenti adesso sul gas? Cioè, tu i soldi del PNRR li sprechi, tra virgolette, su qualche cosa che non è rivolto al 2050. Si vedrà. Diciamo che in questo piano, il PNIEC, cioè il piano energetico nazionale è quello degli anni 70, l'ultimo che è stato fatto, però questo PNIEC, che serve piano nazionale integrato, energia e clima, ha delle previsioni di consumi energetici dei vari settori, ripeto, a volte anche con delle forzature, cioè 8 milioni di veicoli elettrici, insomma, è un bel numero. Il dorato diventa 10, se vogliamo fare il 55%. Però, quindi, con delle forzature legate al fatto che comunque devi produrre dei numeri che siano credibili, no? Se vi ricordate, il governo Berlusconi si facevano 12 centrali nucleari in 10 anni, insomma, no? Che solo manco per trovare il sito, quando ci metti 10 anni, per farlo accettare a chi ci abita, no? Però, quindi c'erano numeri, ipotesi, ipotesi, più o meno credibili. Nel PNIEC pure ci sono delle cose che non sono enunciati, ma poi non si traducono in realtà. E così, purtroppo. Nel PNRR pure ci sarà un sacco di chiacchiere, però ci sono i soldi e ci sono dei progetti. E la capacità di questo governo sarà quella di far partire, di questi ministri, di far partire effettivamente questi progetti. Soprattutto di capire in che proporzione si andrà a valutare l'energia. Perché non è che il governo Berlusconi, 8 milioni di veicoli elettrici o non sono... Allora, le FR, cioè le fonti rinnovabili, c'è una... previsto un incremento, sono percentuali, già si... Diciamo, nel nuovo, nel primo, nel primo che che sarà, il ministro ha già dato dei dati. Poi considerate che questo nuovo ministero si è formato spostando due dipartimenti del Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero dell'Ambiente. E erano i due dipartimenti che erano quelli più rivolti proprio alla parte energia, energia senza clima, perché erano più energia che clima, insomma. E adesso la sfida è quella di mettere insieme queste due tematiche in questo nuovo ministero. E quindi ci sta la competenza della consulè e la competenza, insomma, diciamo, interna ai ministeri per definire questi progetti, per fare questi sviluppi. Poi si tratta di metterli in pratica, con tutte le difficoltà che abbiamo, comprese la burocrazia, diciamo, tutta la burocrazia che si è, che ognuno di noi che vive in un ufficio conosce bene, perché per comprare due cancellini a scuola, no? Ci metti non so quanti mesi, no? Cioè, ma lo stesso è per noi, per comprare qualsiasi cosa, per fare qualsiasi studio, perché hai l'antiriciclaggio, hai motivazioni, diciamo, tipicamente nazionali, sicuramente giuste, però dinamiche amministrative, anche con responsabilità amministrative sparse, per cui nessuno ha la firma, alla fine ha la firma, ed è quello che si può prendere le decisioni, che ti fanno perdere due anni per far attivare qualsiasi cosa. Allora, sul nucleare, diciamo, anche lì, poi potremmo discutere tutta la sera e non mangiare più, poi, sul nucleare, però, diciamo, io sono tra quelli che hanno dato no al nucleare, quindi, insomma, sono colpevole, lo ammetto. E diciamo che la tecnologia nuova ancora non c'è, ma, se è in fase di studio, cioè, non c'è ancora un impianto di quelli, della versione, del, non so, generazione 4.0, non so come si chiamano, non mi ricordo, comunque, le generazioni nuove nucleare. Nucleare, 0.4, non è 0.4, cioè, ma che non sembra, però, bisogna riconoscere che in questi piani 2030, 2050, 2050, soprattutto, 2030 no, Germania, Svezia, tutti i paesi del nord Europa hanno tutti il nucleare, non lo dicono, ma c'è stata una bella quota di nucleare, l'Italia no, perché c'è una normativa che, al momento, il referendum ha bloccato qualsiasi messi nel nucleare, però, gli altri paesi, invece, al 2050, alle emissioni net zero ci arrivano con il nucleare, gli altri paesi europei, e non lo dicono, però, perché è poco ambientalista, diciamo, quindi, a Germania può dire una cosa del genere, a Svezia, a Danimarca, a Germania c'è ancora il carbone e adesso si sta discutendo se anticipare la dismissione, che loro hanno detto al 2035 di chiudere queste centrali, e ne stanno parlando in questi giorni proprio, fanno gli annunci per la COP, praticamente, di anticipare al 2030. Noi siamo stati tra i più bravi in questo, perché avevamo tre centrali, però, insomma, avevamo dieci centrali in tutto, il carbone, nove, dieci, insomma, più o meno funzionanti. E parliamo di assorbimenti, queste sono le nostre estime, cioè, da 25 a 40 milioni di tonnellate, quindi, queste saranno le emissioni consentite, ed è non solo foreste, ma anche emissioni dai suoli, cioè le buone pratiche agricole, tipo, non arare a 50 e mezzo metro sotto suolo, ma fare arature, non arare affatto, l'inseminazione, con le macchine che mettono i semi, passando sopra, cioè, una serie di buone pratiche che fanno, garantiscono la conservazione al suolo del carbonio, consentono di una bella quota, una cifra quasi pare alle foreste, insomma, considerate i suoli nazionali, ovviamente, lì si tratta di convincere l'agricoltore di fare un lavoro invece che un altro, c'è la cultura dietro, c'è anche magari qualche ora di lavoro in più, quindi un costo, no? Parliamo, per esempio, parliamo dell'ammoniaca, lo spandimento a spruzzo, l'abbiamo visto pure sul report, insomma, l'allenatore, ha degli obblighi, deve passare, deve fertilizzare con il refluo animale al suolo, con la macchina, più possibile a terra, per evitare, diciamo, l'evaporazione, l'ammoniaca è molto volatile, quindi più spruzzi e più se ne va in aria, però per fare questa pratica ci metti mezz'ora in più, un'ora in più, e quindi, siccome non ci sono controlli, ha spruzzo, quindi l'ammoniaca ce l'hai, le emissioni ce l'hai uguale, c'era il meno apporto di azodo al suolo, ci metti un po' più di concime, non importa, è sufficiente, ce ne hai in abbondanza di concime, e quindi, e quindi, cioè, sia cultura, sia controllo, e sia, anche far capire, anzi, privilegiare quelle tecniche, quelle pratiche che portano anche dei vantaggi in termini, perché anche l'industria è così, cioè, tutti quelli hanno trattato tecniche ambientali, l'hanno fatto anche perché avevano degli obblighi, però, sono andati ad applicare quelle tecnologie per risparmiare, deve esserci un vantaggio economico, insomma, se no, non funziona, almeno, finora è stato così. Va bene, come si arriva all'emissione net zero? E qua siamo verso la fine, non so che ore sono, verso la fine della presentazione, ma qui non c'è l'ora, vabbè. Per quanto riguarda quello che abbiamo detto suolo e foreste, accrescere l'accumulo carbonico di foreste, quindi, per esempio, adesso c'è una normativa in corso che introduce in qualche maniera cerca di ridurre la possibilità degli incendi, cioè combattere gli incendi, perché gli incendi è successo di tutto, cioè venivano, le guardie forestali andavano a piccare gli incendi perché erano pagati a cottimo a spegnimento di incendio, quindi, se non ci sono incendi, che fai? Non guadagni? Vai a mettere incendio e poi lo spegni e controlli. Poi qualche volta ti sfugge, perché su giornate di vento tremende ti sfugge l'incendio e fai danni. Quindi, di tutto questo. Però le regioni sono autonome su questo, hanno la competenza, quindi possono fare come vi pare. Compreso l'assunzione di tutti quanti i guardie forestali, che come le regioni sappiamo, insomma, che i bacini elettorali sono quelli, no? Assumere, dove possono assumere, quindi aziende regionali, il gruppo forestale e la regione stessa, insomma. Quindi, e cresce alcuni carboni suoli, quindi sviluppando queste buone pratiche, le foreste, una gestione sostenibile delle foreste. Considerate che se c'è più richiesta, se si pensa di utilizzare più biomassa, ci sarà più taglio anche di legna, quindi gestione delle foreste in maniera tale che, quindi, magari qualcosa in meno ce l'hai nei rassorbimenti, perché tagli di più, però che lì si tratta di, ci sono delle buone pratiche, insomma, di gestire le foreste in maniera sostenibile, quindi sia come risorsa che allo stesso tempo come aumentando la capacità di stoccaggio. È chiaro che le piante più giovani sono più veloci ad crescere, ad accumulare carbonio, le piante più vecchie ne accumulano di meno, quindi un ricambio della foresta è sostenibile. Poi, incremento massiccio di energie rinnovabili e produzione di idrogeno, probabilmente, anche se poi ho sentito alcuni settori industriali che poi dicono che l'idrogeno insomma al momento comporta maggiori consumi energetici per la produzione di idrogeno, dei vantaggi che poi vai ad avere nell'utilizzo di idrogeno al posto dei combustibili fossili, quindi il bilancio di CO2 diventa zero. Però, se l'energia è tutta prodotta rinnovabile, allora, va bene. dipende, poi ci sono varie modalità di produzione di idrogeno, alcune più efficienti altre meno, poi ci sarà la ricerca su questo, che vuole essere che incavattura ha venuto un'euro equivalente da 3, ma non riprendi 4, quando quindi l'idrogeno è un 7? Allora, stiamo parlando sempre di, cioè, non applichiamola ad oggi, nel senso che è oggi, ma può essere fra 10 anni, quindi la ricerca su questo tema ci sarà, ci dovrà essere, magari non porterà a nulla, rimarremo come siamo, quindi si abbandonerà l'idrogeno, idrogeno verde, poi pure il sistema, però al momento stiamo parlando di quello che può essere, che va sviluppato, almeno come ricerca, vabbè, il discorso delle infrastrutture, sia per il trasporto che per il trasporto dell'energia e l'accumulo di energia, nuove tecnologie, questo è un po' un riassunto, l'ultimo importante, cambiamenti sia tecnologici che comportamentali, quello che dicevo prima, no? Io vado tutti i giorni in ufficio, però se mi dicono che stai a casa due giorni a settimana per l'ambiente magari io lo faccio. Qua, un ultimo riassunto, stiamo parlando di potenzialità, potenzialità non vuol dire che, appunto, ripeto, non è che è tutto facile, cioè, è potenziale da un punto di vista teorico, poi da un punto di vista pratico bisogna vedere, insomma, no? Però ci stanno, esistono, no? Le tecnologie, quindi la produzione energia elettrica potrebbe avere emissioni zero ma anche avere la cattura del carbonio quindi anche negative, emissioni, cioè, assorbimenti, come il bilancio complessivo attraverso biometano, biomassa, eolica, fotovoltaico, idrogeno, carbon capture nel storage. Trasporti uguale, quindi politiche, politiche, diciamo, di mobilità condivisa che nelle grandi città cominciano ad avere un loro peso, i veicoli elettrici, i cosi, come si chiamano? I monopatti elettrici, con delle corsie preferenziali, magari, no? Vabbè, anche spinta ancora meglio. I biocarburanti, idrogeno, i fluids, eccetera. Poi, ognuna di queste ha le sue complessità. Idrogeno, ok, dove te vai a... cioè, le stazioni di servizio di idrogeno sono delle bombe nucleari, come le stazioni a gas, quelle del gas sono tutte fuori città, con certe normative, perché per la sicurezza sono potenzialmente, insomma, molto pericolose. Quindi, ognuna di queste ha la sua complessità, però, diciamo, teoricamente esistono. Lo stesso per il riscaldamento, l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei consumi, le stufette invece del... le stufette elettriche invece sempre rinnovabili, e la biomassa, le stufette a pellet, che non emetti nulla, eccetera. Altri invece, altri settori, ci hanno più difficoltà, no, scusate, troppo avanti, non è meno. Altri settori non ci siamo ancora, quindi l'industria, non in tutti i settori industriali, si può arrivare a queste, arrivi a zero. Abbiamo detto prima, la produzione di acciaio, la produzione di cemento, e anche le emissioni da processo, cioè il cemento ha delle fasi di processo, che è la decarbonazione, la decarbonazione del cemento, e le sue emissioni di CO2, quindi, o prevedi lo stoccaggio, anche qui, il riutilizzo della CO2, oppure, effini energetici, oppure l'acciaio, ci sono tante cose, tante esperienze, esperienze anche, per esempio, un'azienda familiare sull'acciaio, abbiamo messo, circolare economy, perché è parte di questo processo, c'è un'azienda familiare, che adesso ha più di 100 dipendenti, adesso è stata acquisita da IREN, cioè hanno preferito entrare in un gruppo, che è IREN Energia, che da diversi anni, con la plastica recuperata, che però non può ritornare plastica, perché di qualità non buona, fanno un combustibile, che va a sostituire l'antraicida e il carbone, nelle acciaierie, come agente riducente del carbonio, quindi è un esempio, diciamo, dal punto di vista normativo, non è ancora un esempio di circolare economy, cioè non è riconosciuto come circolare, perché non è un rifiuto, insomma c'è una serie di problemi normativi, per cui non è riconosciuto in quel senso, però di fatto tu hai la plastica, che non puoi recuperare, la recuperi, e la puoi mandare all'inceneritore e fai energia, oppure la puoi recuperare, facendo, andando a sostituire delle fonti fossili, in processi dove attualmente non c'è un'alternativa, diciamo, per dare carbonio all'acciaio, l'acciaio si fa in quel modo, non lo fai con, deve avere quelle caratteristiche, quindi, no? E la chimica uguale, insomma, sono dei settori dove ancora siamo in difficoltà. Non mi ricordo... Vabbè, infine l'agricoltura pure è qui. L'agricoltura, la parte energetica, potenzialmente, può andare tutta a zero, e quello, i 25 milioni di tonnellate di CO2 equivalente che vengono da coltivazione e allevamenti, che ne so, ma anche ammesso che una parte della popolazione diventa vegetariana, primo, bisogna vedere se, dato che c'è un import-export, no? Quindi non è che stiamo sul territorio e ognuno consuma quello che c'ha, no? La carne viene esportata e viene importata in Italia. Quindi, anche ammesso che quanto potrà essere questa popolazione diventa vegetariana nei prossimi 5-30 anni? 10%? Vuol dire 10% di 25 milioni di tonnellate, ma forse anche meno. Cioè, quindi, non stiamo parlando di riduzioni proprio consistenti. Però, insomma, quindi questa è una quantità che probabilmente rimarrà di questo ordine di grandezza, che vuol dire che per l'industria ci manca, ci abbiamo 10-15, insomma. Però ci si può fare, cioè ci sono delle cose da fare, insomma, e non è che non si può fare nulla in agricoltura, si può fare per essere, sia per le emissioni di Castella che per gli altri inquietanti atmosferici. Vabbè, qui abbiamo indicato dei settori, insomma, che queste 40-50 milioni di tonnellate andranno ripartite tra questi settori. E questo è l'ultimo grafico, vi penso che siamo alla fine, dove ho riportato un pochettino che non vi so spiegare perché io sono uno statistico, però magari qualcuno qui dentro può aiutare. Una serie di ipotesi, diciamo, tecnologiche. Le ferre sarebbero le fonti rinnovabili, l'elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento, l'idrogeno, punto interrogativo, il biometano, punto interrogativo, nel senso che attualmente non potremmo mai avere le quantità che abbiamo di gas adesso importato da Libia, Russia, UK, Norvegia, eccetera, e Algeria, insomma, non c'erano mai quelle stesse quantità di gas. Quindi, saranno consumi minori. L'economia circolare ha molto risalto perché in qualche maniera cerca, sono dei principi, diciamo, di base che al momento si applicano prevalentemente ai rifiuti, però possono essere applicati anche in altri settori dove l'idea è quella di consumare di meno materia prima, meno materia prima, riutilizzare quello che gli scarti, riutilizzare diciamo, il prodotto finito, rinserirlo nel processo il più possibile. L'acciaio già lo fa, cioè, forse non sapete, ma gran parte dell'acciaio prodotto in Italia viene dal rottame dell'acciaio recuperato, no? Cioè, il primo settore che ha recuperato, l'Unione Europea è nata col patto sull'acciaio, fra l'altro, negli anni 70, no? Eh? Carbone e acciaio. Esatto, carbone e acciaio. E quindi, ed è un settore che recupera, che fa, da un punto di vista dei numeri, insomma, fa tantissimo già perché tutto l'acciaio, ma anche perché lo può fare, nel senso che l'acciaio, il rottame di acciaio poi si può recuperare quasi nella sua totalità, insomma. E la plastica recupero pure, è superiore attualmente alle produzioni, insomma, perlomeno all'utilizzo finale possibile, per cui poi una parte se ne vanno gli inceneritori. Poi, ognuna di queste ha altre tematiche, tematiche di inceneritori comunque ha potenziali tematiche ambientali perché la plastica contiene cloro e quindi in certe condizioni di produzione, in certi stati della produzione c'è la possibilità che vengono messe diossine e quindi sul territorio queste diossine poi ricadono e rimangono, sono inquinanti persistenti, quindi rimangono. Vabbè, tutto ciò, ha finito la presentazione, poi adesso possiamo parlare liberamente. queste estime nostre sono allegate al documento economia e finanza, cioè sono proprio valori ufficiali, direi, cioè adesso ovviamente l'ho detto, ci sono associati delle incertezze, c'è ancora molto da migliorare, ci sono delle conoscenze che sono più evolute, altre meno in alcuni settori, però sono delle informazioni che stanno già sui tavoli diciamo dei ministri perché sono allegate al documento annuale che hanno una loro valenza diciamo istituzionale, sono numeri che si inventano noi. E poi qui ci sono dei siti web, non ho aggiunto però magari poi te lo mando, quelle mappe che ho fatto vedere prima stanno su un sito dell'IPCC e sono mappe ed è un giochetto interattivo che tu puoi selezionare temperatura, quello, guardate ti vengono fuori i scenari, selezioni un territorio, puoi selezionare quest'area qui, adesso non so che ore sono, forse è tardi, magari dopo ci proviamo, dopo cena, sono quasi le 8, però più tardi possiamo provare a vedere se c'è internet qui, no, però mi posso collegare col telefono insomma e vediamo l'indirizzo io, poi magari te lo do comunque chiunque di voi interessato può andarsi a selezionare cioè una pagina è più complicata un'altra è più semplificata e uno si può vedere, può vedere queste cose che dicevo prima le precipitazioni come cambiano medie con i vari scenari